Nel corso degli anni può capitare, ogni stagione è fatta di tanti momenti, alcuni più positivi, alcuni più negativi. Il morale della squadra ovviamente non è al massimo, però la squadra è consapevole che non può piangersi addosso, che deve aspettare questa domenica come se fosse una finale e deve dimostrare che non è quella che è stata nelle ultime partite. È stata una giornata storta, ne abbiamo parlato tanto, forse troppo, questa settimana e adesso dobbiamo pensare soltanto a Vasto Girardi, quindi dobbiamo affrontare la partita con il coltello tra i denti e sudare fino all'ultima goccia di sudore perché è troppo importante per noi, per il nostro cammino, per il proseguo della stagione e per non rovinare quello che è stato fatto di buono in precedenza. Abbiamo provato sulla nostra pelle che la classifica è soltanto un dato che non sempre rispetta la realtà. Abbiamo fatto tanto contro squadre di cartello e abbiamo fatto poco contro squadre che invece doveva essere sulla carta inferiore a noi, quindi la classifica noi non la possiamo guardare, noi dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse l'ultima, come se fosse l'ultima per raggiungere il nostro obiettivo. La stagione ancora non è finita, per fortuna ci sono tante partite, possiamo fare ancora tanti punti e dobbiamo cominciare domenica.